Alcuni ricercatori stranieri hanno capito subito che Ferrara era un punto di raccolta. Allora c'erano due francesi importanti, Peskin e Spiro, ebrei tutti e due, scappati dalla Polonia, che capiscono che Ferrara è un centro vivo. Da Parigi venivano a Ferrara continuamente. Allora questi due vengono a Ferrara, da allora sono venuti tutti gli anni, sempre, per anni e anni, venivano a continuazione.